Lo aveva promesso, li ha richiamati e incontrati a porte chiuse. Il Vescovo di Lecce, Domenico D'Ambrosio, ha visto i lavoratori dell'AXA, l'azienda che in convenzione con la provincia di Lecce si occupava dei servizi di guardiania, front office e portierato, i cui dipendenti rischiano di perdere il posto, dopo che la riforma del Rio ha svuotato le province delle loro competenze. Prima di tutto lo ringraziamo, perché è stato utile anche per il nostro morale vedere una persona come il Vescovo così vicina ai problemi in generale. Il suo impegno è quello che già da qualche giorno è di difendere i diritti dei lavoratori, si è impegnato anche nel giorno di Pasqua di riprendere questo problema e il suo impegno per questa situazione è quello di cercare di parlare col Presidente, di incontrarlo per vedere se si riesce a trovare una soluzione che noi a questo punto la definiamo una soluzione principalmente umana e dei lavoratori. Quindi non ci interessano problemi tecnici, fuori bilancio, queste sono cose che a noi non interessano. Non interessa che la provincia, i consiglieri e tutti i deputati salentini intervengano per risolvere il problema di 29 famiglie.